Accessi record per il sito web del Comune di Pordenone, che registra oltre un milione di visite l'anno. Uno strumento di servizio e informazione per tutti i cittadini, appena rinnovato con una nuova veste grafica e un'organizzazione dei contenuti facile e intuitiva. A lavorare alla nuova versione del sito sono stati i responsabili dell'Ufficio Comunicazione dell'Ente, Alberto Parigi e Livio Martinuzzi. Livio Martinuzzi, le caratteristiche di questo nuovo sito web? Il sito web del Comune di Pordenone è stato riprogettato pensando principalmente all'utente, non tanto alle informazioni che sono in quantità, ma all'utente che deve consultarle. Questo vuol dire innanzitutto un sito che funziona su mobile, quindi su smartphone, tablet, si adatta al dispositivo in cui viene visualizzato. Oltre a questi accorgimenti tecnici molto importanti, abbiamo dedicato attenzione a una riorganizzazione dei contenuti, proprio ripensando i percorsi di navigazione, cercando di dare incontro a quelle che sono le aspettative e le esigenze di chi consulta questo sito. Un ammodernamento nel segno del digitale promosso dal sindaco Alessandro Ciriani. Il sito di un'estazione pubblica è un elemento fondamentale di comunicazione con i cittadini e di informazione. Ovviamente come un'auto, come una macchina, va rinnovato per rispondere alle esigenze cambiate della cittadinanza, ma anche per le esigenze del comune stesso. È un sito molto visitato, bellissimo, sarà anche visitabile tramite smartphone, quindi direttamente col telefonino e ha superato i milioni di accessi all'anno, quindi vuol dire che è un'attività, è un servizio molto apprezzato. Oltre a rinnovare il sito, il comune ha anche affidato a una società esterna la produzione di centinaia di foto e filmati per promuovere sul web la città. Video e immagini saranno liberamente utilizzabili da tutti. Ci sono dei video professionali, abbiamo investito in quello che deve essere una città smart che potrà essere scaricati gratuitamente da tutti per poter far vedere le bellezze del nostro territorio.